A dicembre del 2022 abbiamo appunto approvato il progetto preliminare per il restauro della Fontana della Fortuna. Questo progetto naturalmente voleva essere raffinato e sicuramente entrare nella specificità dell'intervento perché ricordiamo la Fontana della Fortuna risale intorno al 1550, l'ultima volta che è stata restaurata è stata restaurata nel 2003 grazie all'intervento del Lion Club. In questo caso abbiamo voluto approfondire tutto quello che è la parte tecnico-scientifica attraverso più stadi, tant'è che è nello scorso anno, esattamente da febbraio-marzo, che abbiamo iniziato a fare queste indagini. Inizialmente abbiamo fatto un rilievo a laser per nuvola di punti, proprio per determinare quella che era la configurazione attuale della Fontana. Poi in un secondo tempo abbiamo valutato tutte quelle che erano delle schede, anzi abbiamo fatto realizzare al progettista delle schede tecniche rispetto agli elementi decorativi, parliamo dei leoni, dei delfini, piuttosto che della vasca, ma della stessa statua della Fortuna perché devono essere preservati al meglio in termini di materiale e di colori originali. In un terzo tempo abbiamo anche approfondito tutto quello che invece è la parte storico-scientifica, perché? Proprio perché volevamo essere ancora più fedeli a quello che era l'originale e in questo stadio, proprio qualche giorno fa, diciamo che attraverso il rivenimento di una fotografia di materiale fotografico dell'Ottocento, si è saputo che insomma il livello della Fontana fosse un po' più basso dell'accesso della Fontana, quindi facendo degli scavi sono stati rinvenuti dei mattoni che sono praticamente simili a quelli delle gradinate attuali che sono scoperti, per cui grazie anche all'intervento della soprintendenza si è constatato che probabilmente la Fontana avesse ulteriori due giri di scalini. Ora abbiamo dato in carico al progettista di capire come valorizzare anche questo rinvenimento perché è una cosa storica e importantissima per la nostra città perché, ripeto, parliamo di una situazione originale. Sono stati fatti anche altri studi? Sì, di carattere idraulico, proprio per riuscire a migliorare l'efficientamento di tutto quello che era l'apparato di acqua che in questo momento in un leone non esce, quindi dovranno poi essere, diciamo, anche probabilmente distaccati i leoni sopraelevati con il parere della soprintendenza proprio per favorire poi il deflusso. Il costo dell'intervento, Sessore? Il costo dell'intervento è di 120.000 euro e, diciamo, il termine dei lavori, o meglio, la consegna del progetto definitivo ci auguriamo che sia, insomma, per marzo per poi affidarli e riuscire a realizzarli entro l'estate.